Buongiorno e ben svegliati e buona giornata a tutti cari amici dal sottoscritto Nicola De Luciga. In questo primo video di questa nuova giornata parliamo di calcio maschile, Coppa Italia, semifinali, gara di andata, Inter Napoli, i partenopei riescono a superare i nerazzurri grazie al gol di Fabian Ruiz nella ripresa al cinquantasettesimo, vittoria del Napoli quotata dai bookmaker a 4,365,363,365, gara di ritorno in programma nei primi giorni di marzo, quindi direi che nonostante la sconvitta l'Indra ha tutte le carte in regola per provare ad andare in finale. Quindi chiudo il collegamento appunto ribadendo il Napoli vince a San Giro per 1 a 0 nella gara di andata della prima semifinale di Coppa Italia. Ciao a tutti!